Masseria Catalafazza è un insieme di trulli realizzati intorno a una corte nel territorio a nord di Alberobello, sulla collina di Montesale. La neviera di Masseriola invece a nord-ovest nel XIX secolo serviva a trasformare la neve in ghiaccio da vendere. Erano delle strutture che avevano uno sviluppo interrato per 6-7 metri di profondità ed erano sormontate da una struttura, sempre in pietra, con una doppia volta e questo intercapedine fuori terra veniva riempito di paglia. Le fogge di traversa, andando verso Noci, erano cisterna naturale per abbeverare le mandrie, tre luoghi e tre storie diverse raccolte dall'Associazione Culturale Gianni Bimbo nella prima edizione di Fatti di Pietra, una pubblicazione che vuol far conoscere e recuperare luoghi storici di Alberobello. Abbiamo così dato l'incarico a tre giovani ragazzi di Alberobello di operare una ricerca su questi luoghi, dietro cui ovviamente c'è una bella storia che va conosciuta, che va raccontata e che va divulgata.